Qual è un valore importantissimo? Qual è un valore importantissimo? Anche loro terranno questa competizione, quindi abbiamo avuto poco tempo per prepararla, sappiamo che sarà una gara tosta e difficile e ci aspetta grande sacrificio perché queste sono squadre che se non le aggredisci per bene ti fanno correre, ti fanno andare fuori i giri e questo non lo dobbiamo permettere. Qualche ragazzo che ha giocato meno domani sarà della partita, qualche rotazione siamo costretti a farla per le tante partite ravvicinate che ci aspettano, quindi spazio per tutti, siamo tutti a disposizione e speriamo venga fuori una bella prestazione.